direttamente dalla storica sala dei monopoli di stato di piazza mastai in roma questa è l'estrazione di super enalotto buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del super enalotto oggi sabato 27 luglio il jackpot ha raggiunto la cifra di 54 milioni 228 mila 366 euro le 90 sfere numerate sono state caricate nella prima urna e con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo realvi all'estrazione del concorso numero 119 inizia il mescolamento automatico delle sfere stiamo per scoprire se i numeri vincenti più il numero jolly tenete strette le vostre ricevute è in arrivo il primo numero il primo numero estratto è il numero 59 siamo al secondo numero con super enalotto si inizia già a vincere il secondo numero estratto è il numero 84 il terzo numero sta arrivando il terzo numero estratto è il numero 13 pronti per il quarto numero il quarto numero estratto è il numero 14 adesso scopriamo il quinto numero che apre le porte alle grandi vincite il quinto numero estratto è il numero 25 è il momento di incrociare le dita stiamo per completare la sestina vincente il sesto numero estratto è il numero 34 dopo i sei numeri che assegnano il jackpot passiamo all'estrazione del numero jolly vi ricordo che indovinando questo numero insieme a 5 numeri della sestina vincente potete realizzare la grande vincita del 5 più 1 il numero jolly di questa sera è il numero 71 controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione ed il numero jolly 59 84 13 14 25 34 numero jolly 71 ed ora passiamo al numero superstar superstar è il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente al momento della giocata la sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le spere da 1 a 90 procediamo con l'ultima estrazione di questa sera vi ricordo che indovinando il numero superstar si vince sempre superstar moltiplica le vincite su prena l'otto fino a 100 volte e premi anche lo 0 e l'1 le sfere stanno ruotando nell'urna pronti? il numero superstar di questa sera è il numero 17 ricontrolliamo insieme tutti i numeri estratti del concorso numero 119 con la sestina vincente in ordine crescente 13 14 25 34 59 84 numero jolly 71 numero superstar 17 l'estrazione di oggi sabato 27 luglio termina qui diamo il tempo di verificare tutte le giocate e ci rivediamo tra poco per scoprire se il jackpot di oltre 54 milioni 200 mila euro è stato centrato da qualche fortunato giocatore ben ritrovati poco fa abbiamo estratto i numeri vincenti del concorso numero 119 siete pronti a scoprire le vincite di questa sera? questa estrazione del super enalotto assegna 389.716 vincite vi ricordo che il jackpot in palio è di oltre 54 milioni 200 mila euro sarà stato centrato il 6? questa sera il 6 di super enalotto non è stato realizzato e il jackpot cresce ancora per arrivare a 55 milioni di euro vediamo adesso nel dettaglio tutte le vincite e le relative quote nessun 6, nessun 5 più 1 l'unico 5 si aggiudica 182.818 euro i 4 sono 432 e vincono 429 euro ciascuno i 3 sono 18.367 e vincono 30 euro ciascuno i 2 sono 307.037 e vincono 5 euro ciascuno ed in questo concorso sono state assegnate ben 225.061 vincite immediate winbox scopriamo adesso insieme vincite e premi superstar nessun 5 stella i 4 stella sono 3 e vincono 42.983 euro ciascuno i 3 stella sono 126 e vincono 3.049 euro ciascuno 100 euro vanno invece 2.623 2 stella 10 euro e 18.381 stella e 5 euro e 42.747 0 stella inoltre 104 vincite da 50 euro ciascuna e 15.628 vincite da 3 euro ciascuna sono assegnate le combinazioni non vincenti vi ricordiamo che è possibile verificare l'esito delle proprie giocate in modo facile e veloce con l'app Super Enalotto verifica vincite l'app è disponibile per tutti gli smartphone per maggiori informazioni consultate il sito superenalotto.it vi ringrazio per essere stati con noi Super Enalotto vi dà appuntamento a martedì 30 luglio giocheremo per un jackpot di 55 milioni di euro arrivederci a presto a presto a presto